Non credete a coloro che vi raccontano le bugie. La verità è che abbiamo fatto decine di opere, il ponte in fase di lavorazione, il patrimonio è solido, certo abbiamo qualche difficoltà di cassa ma chi non le ha in questo momento. Ho resistito a pesanti e infamanti accuse per molti mesi e l'ho fatto perché voi mi avete dato il compito di governare la città nella buona e nella cattiva sorte. Ora tocca a voi. Andate a votare domenica e lunedì per il turno di ballottaggio.